ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video volevo parlare con voi della situazione terzini che ormai è una vera e propria emergenza siamo a corto di terzini e purtroppo questa non è una novità e sicuramente un errore c'è un errore strutturale da parte della società ci siamo trovati soltanto con alexandro de sciglio e danilo come terzini di ruolo più un quadrato adattato il problema è che anche quadrato in terzino destro quindi in realtà con de sciglio infortunato ci siamo trovati con il solo alexandro a sinistra e con il ballottaggio quadrato danilo sulla destra prova che danilo si è fatto male e quindi fin dopo la sosta non potremmo contare nessun danilo nessun de sciglio e quindi ci siamo trovati con quadrato titolare sabato giocherà quadrato titolare problema che è purtroppo alexandro ha avuto un lutto personale abbastanza importante quindi ci siamo trovati anche senza terzino sinistro e questo sicuramente non è una bella situazione e possiamo dire un errore strutturale da parte della società però adesso faccio un paio di considerazioni questo è un errore secondo me l'errore principe del mercato della juve è stato questo trovarsi con pochi terzini pochi terzini però il problema della juve è a fondo è a fondo il problema della juve a mio avviso rispetto a barcellona real madrid è che non abbiamo un vivaio che ha tirato su giocatori secondo me all'altezza avevamo marchisio avevamo marchisio poi alla fine se andiamo a vedere negli ultimi anni il titolare del vivaio era marchisio poi ogni anno con conte si era inserito de ceglie che era un altro cresciuto nel vivaio poi abbiamo inserito pinsoglio poi abbiamo inserito ken detto però se andiamo a grattare c'è poca ciccia e purtroppo c'è da dire che cresciuti nel vivaio attualmente c'è solo il pinsoglio questo è l'errore principe non della juve di quest'anno ma degli altri anni cioè non aver mai potuto puntare sul settore giovanile e adesso facciamo un'altra considerazione c'era ken ma ken l'anno scorso ken secondo me non è un giocatore all'altezza di una grande squadra ma questo lo pensavo anche l'anno scorso infatti se vi ricordate lo dicevo nei video e infatti fa fatica anche all'everton perché è un giocatore normale secondo me quindi per me la juve ha fatto anche bene a cederlo sinceramente non ha fatto bene a cedere pellegrini a mio avviso però sia sempre lì se tu tenevi pellegrini in squadra sicuramente adesso giocava sabato giocava intanto non faceva esperienza l'esperienza che sta facendo a cagliari il problema è che giocando con luca pellegrini e lista champions dove togliere un centrale e già siamo carenti già abbiamo venuto fuori un putiferio per emre chan se toglievo anche un altro giocatore magari in un altro ruolo sarebbe stato una catastrofe ancora maggiore quindi sicuramente l'errore c'è ma l'errore di base è quello proprio di non aver tirato su nel corso degli anni giocatori dal settore giovanile secondo me questa cosa la juve l'ha capita e ha creato uno dei motivi per cui ha creato l'under 23 proprio questo qui e allora io dico o crediamo nell'under 23 o non ci crediamo o crediamo che sia un progetto valido come io penso oppure non ci crediamo più basta allora inutile anche andare avanti in spagna queste cose a real madrid al barcellona succedono ma loro hanno un vantaggio loro hanno i canterani che hanno maggior esperienza maggior come posso dire capacità su queste cose hanno una cantera molto più esperta e formata rispetto a noi perché noi siamo freschi di questa cosa e li buttano dentro cosa che noi facciamo fatica a fare cosa che noi facciamo fatica a fare noi l'anno scorso se non avessimo vinto il campionato a febbraio probabilmente non avremmo visto tutte queste partite di can tutte queste partite di gozzi tutte queste avremmo fatto fatica a vederle poi siamo lì giusto sbagliate non lo so però io posso dire che a mio avviso la juve la juve crede molto nell'under 23 e io a questo punto sabato invece di fare io 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 roberto io invece di fare esperimenti buttando che ne so io è una difesa 3 che tra l'altro sarri so che non sopporta azzarderei un terzino giovane cioè io a questo punto io giocherei con bonucci delic centrali quadrato destra e beruato a sinistra o anzolin che sono due secondo me dei più pronti dall'under 23 primavera a salire io ieri sera ho visto l'under 23 a me impressionato fra 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 frotta scusate mi inceppi spico fra botta ecco l'ho detto fatto una gran partita beruato ha giocato a destra e non ha fatto una brutta partita neanche giocando a destra cioè nel ruolo opposto del suo secondo me si può provare anche perché ripeto se abbiamo creato questa cosa è perché dobbiamo crederci se no ragazzi non aveva neanche senso crearla l'under 23 ci crediamo nell'under 23 o non ci crediamo se ci crediamo diamo fiducia tra l'altro la sfortuna in più è che uno dei migliori terzini che abbiamo nell'under 23 primavera è fonseca bandera si è fatto mare quindi pure e quindi niente ragazzi sicuramente c'è stata una lacuna se non avessimo se avessimo coperto quella lacuna di mercato a fine mercato ci saremmo trovati con un'altra situazione imbarazzante per quanto riguarda le liste perché sarebbe uscito un altro giocatore anche rugani per dire però avreste avuto un centrale in meno di difesa e quindi sarebbe stata un'altra situazione pesante allora visto che questa situazione terzini speriamo toccando ferro toccando legno ferro tutto quello si può toccare dovrebbe risolversi al rientro dalle nazionali quando torneranno danilo ed esciglio ovviamente tornerà alexandro che quanto pare visto che si tratta di un lutto dovrebbe tornare non sabato ma subito dopo io a questo punto io sabato la carta berruato o la carta anzolin ce la picchierei dentro io non lo so secondo me è per me è una cosa una cosa che si può provare che si può provare perché sono giocatori pronti anche perché berruato può essere inserito anzolin non lo so perché non mi ricordo quanti anni ha fatto di settore giovanino la juve berruato credo che si possa inserire eventualmente già anche nelle liste champions proprio per la questione di di vivaio insomma no e niente ragazzi quindi questo è il mio pensiero la juve secondo me ha agito bene sul fronte a cessioni quest'anno perché comunque cansello danilo a mio avviso anche per il bilancio è stato un buon affare poi a me cansello sapete cosa pensavo su cansello e danilo per me lo reputo un buon terzino peccato che si sia fatto male perché non è così secondo me è un ottimo terzino danilo se andiamo a vedere andiamo a vedere spinazzola pellegrini secondo me ci abbiamo guadagnato non avrei dato in prestito pellegrini se proprio vogliamo il peccato è quello no ha fatto un buono scandalo secondo me più che altro attenzione io credo molto in spinazzola come terzino problema che è fragile troppo anche ieri si è fatto male un giocatore che purtroppo ogni totta degli infortuni questo l'ha limitato troppo in carriera e peccato perché adesso adesso è ora di far vedere che tu all'under 23 progetto under 23 ci credi ci credi non per vincere il campionato di serie c vincere la coppa italia serie c salvarsi playoff o comunque ogni obiettivo stagionale che ti crea ogni anno ma ci credi perché questa squadra nasce principalmente per far crescere i giocatori e far arrivare pronti in prima squadra quindi dobbiamo assolutamente credere in questa squadra e diamo una possibilità anche a questi ragazzi allineiamoci al resto d'europa perché ragazzi per quanto uno possa non essere pronto un giocatore soprattutto i terzini i terzini ti fanno solo la differenza in positivo è difficile che te la faccia in negativo cioè e poi poi ragazzi concedete me la sta battuta abbiamo preso 7 gol in 4 partite in 5 partite abbiamo preso 7 gol se permettete cioè possiamo anche rischiare di mettere uno magari meno difensivo come beruato tanto quindi questo è il mio pensiero crediamo all'under 23 e visto che alexandro non ci sarà facciamo esordire a mio avviso uno dei migliori talenti dell'under 23 o pietro beruato o anzolin secondo me i due giocatori che sono più pronti per esordire in serie a con la juve tutto qua ragazzi io vi saluto e vi do appuntamento per i prossimi video ciao a tutti